ok ciao ragazzi sono ok Matteo Camardi siamo su DarkVanities e vi ricordo di restare aggiornati sulle prossime novità perché stiamo tornando con la pubblicazione dei libri ma non solo ci saranno dei podcast d'ora in poi fissi una volta a settimana circa che riguarderanno dei personaggi dei film, delle serie tipiche che proponiamo qui sul canale ma non solo anche dei libri ciao ciao